Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video In questo video vorrò ringraziare i miei 50 iscritti 50 iscritti Se vedete cosa è scritto iscritti Metti a fuoco, stronza Iscritti ecco Ebbene l'ultimo che si iscritto è stato Angelo Bell 2004 Che me l'ho mandato Fabio Bell 00 Fabio Bell 00 Ebbene lo ringrazio moltissimo Ha un'informazione, volevo dire Che ho fatto questo concorso 50 iscritti Leggete la descrizione Leggete la descrizione e soprattutto guardate il video Perché è molto importante C'è il video che la descrizione Ebbene Lo ringrazio solo gli miei 50 iscritti e basta Come vedete prima Cioè Tipo Come dire Quello che emana la fotocamera così Non so come si chiama Dritto Era Il mio libro di geografia Il mio libro di geografia Ho fatto questo video adesso perché poi devo mettermi a studiare Ebbene Volevo già mettere i miei 50 50 50 50 50 I Allora Alfabeto mutuo I S C R I T T I Double T Ora ve lo dico anche in inglese I I C R I Double T I In francese non lo so ancora Perché adesso è iniziata a venire la professoressa di francese Ebbene ragazzi il video finisce qui Guardate commentate e iscrivetevi E partecipate al mio Come dire Secondo concorso perché Prima ho fatto Di 10-15 iscritti Non lo so Chi si ricorda Partecipate in tanti Perché vingerete un magnifico del catty ex E in perfettissime condizioni Però non so se mentre mi arrivo si rovina Però penso che lo metterò in due buste Cioè in due fotene Un lucario inglese E moltissime altre carte Vabbè ragazzi Iscrivetevi e partecipate al concorso Iscrivetevi al nuovo canale E ciao da molti canali di Ciccia Ciao